Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dichiara che l'Emilia Romagna è una locomotiva che non si può fermare, troveremo le risorse necessarie, dice, per la ripartenza. E a proposito delle alluvioni e delle esondazioni della scorsa settimana nella regione, acconselice che una delle città più devastate purtroppo da quella tragedia, c'è l'ordine di evacuazione. Rischio sanitario per l'acqua stagnante, questa la motivazione e nel frattempo sono partite le vaccinazioni di massa. Intanto in Ucraina le bombe russe continuano a causare vittime e feriti. E a Mosca c'è l'inviato speciale della Cina, ma è attiva e a lavoro anche la mediazione del Vaticano. Sono queste alcune delle notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei giornali oggi, sabato 27 maggio. Come di consueto cominciamo la nostra rassegna stampa dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera che, come vedete, titola Ucraina, prove di trattativa proposta dell'inviato di Xi e missione del Vaticano, ma i raid continuano. Pechino, tregua se Putin mantiene le aree conquistate, gelo di Kiev e alleati e Mosca apre a zuppi. Leggiamo, spiragli di trattativa per il conflitto ucraino. L'inviato del presidente cinese Xi Jinping propone una tregua se Vladimir Putin mantiene i territori che sono stati annessi alla Russia. Ma c'è il gelo da parte di Kiev e dell'Occidente. Mosca apre al dialogo con il Vaticano. Il cardinale Parolin dichiara creare, è necessario creare un clima di pace. C'è anche oggi l'intervista a Podoliak. Nessuna pace se l'opzione è cedere terre. La pace sì, ma senza cedere parti di territorio dell'Ucraina ai russi, dice Podoliak, il consigliere di Zelensky. Il Vaticano chieda a Putin di ritirarsi. Poi a centropagina l'alluvione a Conselice scatta l'evacuazione. Grave rischio di contagi, fondi europei per 6 miliardi. Rischio sanitario grave e per questo Conselice invasa di acqua putrida e maleodorante. Viene evacuata per l'Emilia Romagna 6 miliardi dal PNRR. Poi nel taglio basso la politica e il sondaggio Fratelli d'Italia primo torna a salire. Frena il Partito Democratico, netto calo del Movimento 5 Stelle. Questi risultati del sondaggio appunto di Nando Pagnoncelli. Tiene, continua a tenere banco la questione Rai. Amadeus addio festival. Fiorello lo dice. La Rai nega. Fiorello a sorpresa. Amadeus non sa se farà Sanremo e la Rai sventisce. Dunque si parla anche del futuro del festival. Poi la cronaca. Genitori Novax accusati di tentato omicidio. Accade a Milano. Niente test, il bimbo è grave, decide il PM. La pagina di cronaca è raccontata da Luigi Ferrarella. C'è un bimbo di 4 anni che rischia di morire ma l'intervento è sospeso perché i genitori Novax non vogliono che gli si faccia il tampone. Allora la procura li indaga per tentato omicidio e impone il prelievo forzato per poter effettuare i test anti-covid e corsa contro il tempo a Milano. Poi a proposito della fiera del libro a Francoforte e dal caso Rovelli al figlio, Levi lascia. Riccardo Franco Levi lascia la fiera del libro di Francoforte dopo le critiche sul figlio e su Rovelli. Poi in spalla ancora la politica, di Meloni al salario minimo, meglio tagliare il cuneo fiscale. Dunque si parla di lavoro e tasse. Il salario minimo di per sé è un'iniziativa buona dal punto di vista filosofico ma è inutile, dice la Premier, Giorgia Meloni, collegata con il Festival dell'Economia di Trento. Avanti invece sul cuneo fiscale il nostro obiettivo è quello di renderlo strutturale entro la legislatura, autonomia e presidenzialismo. E poi come di consueto Francesco Verderami racconta gli ultimi sette giorni, dunque la settimana, ma Roma non è il franti d'Europa. A leggere le pagelle di Bruxelles sui compiti da fare a casa per il PNRR l'Italia non sembra il franti d'Europa, sono altri paesi in odor di bocciatura e su tutti risalta la Germania. Andiamo su Repubblica. PNRR, banche in soccorso, gli istituti di credito pronti a sostenere le imprese per superare i ritardi. La Corte dei Conti speso un sesto dei fondi europei in quattro mesi investiti soltanto 1,1 miliardi. Ambiente scuola quasi a zero, la sanità all'1% e il Fondo Monetario Internazionale dichiara che è a rischio la ripresa. Dunque per la Repubblica il recovery è arenato. Le banche potrebbero sostenere le imprese per far fronte ai ritardi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica emerge che nei primi quattro mesi dell'anno è stato speso poco più di un miliardo. L'affanno sul PNRR è evidente complicato dal tentativo di cambiare in corsa il meccanismo della spesa. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia l'Italia. La piena attuazione del piano è necessaria per la produttività e la crescita. Alluvione in Emilia-Romagna è un caso la bozza del DL sulla ricostruzione che esclude Bonaccini. E sulla politica oggi su Repubblica troviamo il commento di Claudio Tito. Ora il governo getti la maschera. È ormai giunto il momento di mettere giù la maschera, scrive Tito. Questo governo e la Presidente del Consiglio hanno il dovere e la responsabilità di spiegare ai cittadini cosa intendano davvero fare, in particolare se credono ancora nelle riforme e nelle opportunità contenute nel PNRR. Poi i rilievi dell'ufficio parlamentare di bilancio. Fisco, critiche alla flat tax. Non ha le coperture. Una riforma del fisco senza coperture e che penalizza i redditi medi con la flat tax favorendo quegli alti. L'ufficio parlamentare di bilancio avverte il governo. La Premier Meloni. La lotta all'evasione fiscale e si fa dove sta l'evasione. Le big company, le banche, non il piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato. Oggi Repubblica ricorda l'anniversario della strage dei georgofili. Il PM Tescaroli bisogna accertare le convergenze esterne a Cosa Nostra. A centropagina poi la questionerai con la vignetta di Altan. Rai Meloni attacca la sinistra nervosa perché perde potere. In spalla poi i mappamondi, Cine e Papa, le missioni di pace che non riescono a frenare la guerra. E poi se il Sud globale si mobilita. Ancora dalla fantascienza a Neuralink e a fondo pagina l'intervista Emma Dante. Torno alla scala dopo 14 anni, ma c'è anche la polemica, il glicine o il museo, il dilemma che divide Milano. Infine, l'altro anniversario, Don Milani. Che cosa resta della sua eredità? Passiamo alla stampa. Il giornale di Torino. Tasse pensioni promesse impossibili. Questo è il titolo che troviamo in primo piano. Anche l'FMI boccia le riforme stretta sulla previdenza flat tax irrealizzabile. Va ridotto il debito. Nuovo stop dopo Unione Europea e Banca Italia alla Premier alle imprese. Voglio rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Oggi sulla stampa troviamo un'intervista a Vernini. A Medicina 4.000 studenti in più. Aumenteranno del 30% i posti per chi vorrà iscriversi a Medicina nel prossimo anno accademico. Ci saranno incentivi per specializzazioni accoglienti e il MIUR garantirà che il costo degli affitti sarà inferiore a quello di mercato. Questa è sostanzialmente la sintesi dell'intervista. Poi si parla anche di informazione con Paolo Festuccia. Così la lottizzazione ha impoverito la RAI. Nella storia c'è sempre un prima e un dopo. C'è stata una RAI del monopolio e c'è stata una RAI del duopolio. Si è passati poi a una RAI dei professori e si è arrivati a quella del conflitto di interesse. Tante fasi un denominatore comune. Poi il dibattito leggemonia culturale a destra è solo potere. Così Marco Follini. Il commento è affidato a Mario De Aglio e si intitola Il governo verso un vicolo cieco. A centropagina poi si parla di sport e si racconta la bella storia di Manuel Bortuzzo. Voglio le Olimpiadi. Ha subito un incidente e ora è alla nazionale paralimpica. Manuel Bortuzzo ha imparato a nuotare due volte da bambino e dopo il proiettile che l'ha paralizzato nel 2019. Ma anche sulla stampa si parla di alluvione. Romagna in fuga dal rischio infezioni. Via tutti dalle case ancora allagate e da quell'aria che puzza di marcio e la respiri anche a centinaia di metri da dove l'acqua ristagna da più di una settimana. Via tutti rapidamente perché i rischi per la salute potrebbero essere alti. E a proposito dell'alluvione c'è il racconto. I temi dei bimbi di Forlì. L'acqua ora fa paura scrivono. Margherita ha avuto un po' di paura per l'acqua che invadeva il giardino, per le notizie da Forlì, da Ravenna, da Fenza, ma soprattutto ha avuto paura per le sue tartarughe. Noi abbiamo un agriturismo e si è allagato tutto lì davanti, ha scritto ancora. In spalla poi i diritti, la leale collaborazione che Meloni rifiuta sul doppio cognome, l'anniversario, la ricorrenza a Don Milani, la lezione del merito per tutti. Infine l'intelligenza artificiale, il microchip di Elon Musk ci entra nel cervello. Un'azienda americana ha avuto il via libera per testare un chip nel cervello di esseri umani, racconta Riccardo Luna e visto che l'azienda è di Elon Musk la cosa provoca subito apprezzione. Andiamo su Avvenire, il giornale dei Vescovi italiani, Barlumi di pace, questo è il titolo principale, Mosca valuta positivamente l'iniziativa del Papa, Kiev una conferenza a luglio, la Cina spinge per una tregua senza ritiro russo, posizioni lontane, bombe a Dnipro. Primi segnali di accoglienza per la missione del Cardinale Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana e poi Parolin di Chiara, percorso da agevolare. L'iniziativa del Vaticano rialza la testa, ucraini e russi pronunciano insieme la parola pace. Mosca valuta positivamente l'iniziativa di Papa Francesco, Kiev replica che un vertice di pace è necessario entro luglio a partire dai dieci punti di Zelensky. Sempre ieri a Mosca, il faccia a faccia tra Lavrov e l'inviato cinese Liui che chiede un cessate il fuoco immediato con la Russia che conserva gli attuali territori. E il segretario di Stato Vaticano Parolin fa sapere, stiamo ragionando sulle date per la missione del Cardinale Zuppi. Poi la politica, nuove critiche alla flat tax e ora Meloni non ne parla più. Le critiche chiaramente si basano sul fatto che favorirebbe i ricchi. E poi si parla anche di Emilia Romagna, con Selice allagata, evacuazione e vaccini. L'Unione Europea 6 miliardi per la prevenzione. Con Selice e un catino non poteva che riempirsi d'acqua. L'assessore ai servizi educativi, attività produttive e promozione del territorio, Raffaele Alberoni, risponde trafelato al telefono dal lab logistico allestito all'interno dei capannoni di Romagna Karting, periferia sud del paese, improvvisando una lezione di geomorfologia. Attorno a lui è un putiferio di volontari. È da qui che partono le spedizioni di viveri e farmaci, verso le strade invase dall'acqua. E poi in palestra per allenarsi alla sicurezza sul lavoro. Le iniziative per scongiurare gli infortuni mortali, record di inattivi per avvenire una strage. Poi l'attentato 30 anni fa, georgofoli, strage di mafia e non solo, ma c'è anche il bilancio dell'Istat. Nel 2020 sono stati 78 mila i morti da Covid. Passiamo al sole 24 ore. Meloni avanti sul taglio del cuneo. La sfida è renderlo più ampio e strutturale. La premiera a Trento? Preziosa. La visita di Ursula von der Leyen in Romagna dall'Unione Europea. Flessibilità sui fondi. Dichiaro questo. E poi ancora con Macron in controconcreto. I rapporti tra Italia e Francia non cambiano. Infine, presidenzialismo e autonomia sono le riforme del centro-destra e le faremo. Sostanzialmente sono questi i tre punti su cui si è concentrato l'intervento della Presidente del Consiglio. Poi nel taglio basso, sempre sul sole 24 ore, troviamo il titolo PNRR stretta sui controlli della Corte dei Conti e in arrivo dal Governo una doppia stretta per i controlli della Corte dei Conti sul PNRR. I testi in via di definizione a Palazzo Chigi dovrebbero assumere nelle prossime ore la forma di emendamenti per limitare l'azione del controllo concomitante dopo lo scontro con l'esecutivo sul mancato rispetto della Milestone sull'idrogeno stradale e prorogare ancora una volta lo scudo contro il danno erariale da colpa grave in scadenza il prossimo 30 giugno. Poi c'è il bilancio energetico in fondo alla pagina con i forti ribassi di gas e petrolio risparmi per 1.500 euro a famiglia. Andiamo al resto del Carlino, supercommissario per la ricostruzione allo studio, un decreto che individua i poteri e le funzioni di chi dovrà gestire i miliardi per far ripartire le zone colpite dalle calamità naturali. E poi Meloni, l'Emilia Romagna è una locomotiva, se si ferma rischia il paese, emergenza sanitaria, case evacuate e ressa per le vaccinazioni. Oggi il resto del Carlino propone l'intervista a Vasco Rossi, alluminati a Rimini, canto per voi, ieri come oggi quando tutto va a rotoli, tocca ai giovani. E chiaramente il titolo non può essere che noi siamo ancora qua. Viene parafrasata una delle hit del rocker. Cambiamo, andiamo all'Eco di Bergamo. Aiuti alla Romagna, Caritas in campo, aperta alla sottoscrizione, grande successo per la Piadina Solidale, inoltre 10.000 sul Sentierone. Iniziativa che vediamo raccontata con la foto in primo piano in alto e chiaramente poi sotto troviamo una foto che racconta anche della Romagna messa in ginocchio proprio dall'alluvione. Nel fondo basso, nel taglio basso, troviamo anche la cronaca schianto in moto, muore un diciottenne. Ancora la provincia di Como che si sofferma in primo piano sulla cronaca. Tragico scontro tra moto e il casco vola via, morto. È accaduto a Cermenate, la vittima aveva 49 anni, l'altro conducente illeso. Leggiamo e capiamo che cosa è accaduto. Un altro morto sulle strade del Canturino, un altro motociclista a perdere la vita ieri pomeriggio a Cermenate, poco prima delle 16, sulla Statale dei Giovi, un uomo di 49 anni. Il tragico incidente è avvenuto sulla trafficata provinciale quando mancavano pochi minuti alle 16. Stando alle prime ricostruzioni, Roberto Oriani, di 49 anni, residente nel milanese ma originario di Cermenate, percorreva la strada in direzione di Milano a bordo di una Yamaha quando all'altezza di via dei Cristofori si è attamponato un'altra motocicletta condotta da un trentenne che era fermo in attesa di svoltare a sinistra per entrare nella via. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato dalla sella, rovinando a terra, a quanto pare perdendo il casco e sarebbe stato anche travolto dalla sua stessa motocicletta. Le ferite riportate sono state devastanti, tanto che le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. E poi cane a zanna una bimba, bisnonna la salva, ucciso l'animale. Ora andiamo a sud con la Gazzetta del Mezzogiorno. Il sud si è bloccato. Giovani che non studiano ne lavorano. Il Mezzogiorno, maglia nera d'Europa. E il sociologo Chiarello, l'unica cura resta l'immigrazione. C'è l'analisi di avanzati, il diritto alla laurea tra caro affitti e il boom dei bed and breakfast. Poi a centropagina il pericolo, infezioni in Emilia. Ma si parla anche di elezioni. A Brindisi domani il ballottaggio e guerra all'ultimo voto. Nel taglio alto in spalla, turismo ed identità, le masse non guastano e per il Vaticano i luoghi sono a rischio. Si parla anche di negazionismo climatico. Moda pericolosa è a raccontarci questo aspetto di quanto è accaduto dell'alluvione e Valentina Petrini. Poi a fondopagina, competenti o le ali, per le nomine serve un nuovo sistema. E dunque si parla di politica e incarichi. Infine anche lo sport, il calcio, Bari, la scalata alla A comincia con il Sud Tirol. Passiamo all'edicola del Sud. Aziende digitali, record di nascite in Puglia. Puglia, questo è il risultato dello studio di infocamere. In dieci anni sono aumentate del 50% più che in qualsiasi altra regione. Ma il titolo principale è dedicato alla sanità che è nel mirino del NIRS. Ecco tutte le irregolarità sulla gestione del personale mentre i laureati denunciano anomalie. In 15 giorni, gli 007 della regione, guidati dall'avvocato Antonio Lascala, sono stati in sei ospedali pugliesi, incluso il Giovanni XXIII di Bari. Comune denominatore l'utilizzo di dipendenti per mansioni diverse dal contratto. Si parla anche di scuola. Non chiuderemo le scuole. Le dichiarazioni del ministro Valditara, che è stato a Bari. Dunque si parla del dimensionamento dei plessi. Infine, penitenziari aggrediti a Taranto, scatta lo sciopero della fame. Andiamo ora alla prima pagina del messaggero. Migranti, quote decise dall'Unione Europea. Il piano allo studio dei 27 prevede la ripartizione in base alle capacità di accoglienza dei paesi. Nella bozza anche obblighi di solidarietà e si tiene conto della posizione degli stati di frontiera. Meloni, l'Europa ci aiuti sul PNRR, taglio al cuneo fiscale da rinforzare. E poi il ministro della giustizia Nordio, ai giudici, non critichino le leggi. Ancora, a Caltagerone servono norme per salvaguardare il capitalismo familiare, e l'imprenditore a Trento, successioni. È necessaria una modifica, è opportuna una modifica a centropagina. Poi, senza gambe in cima al mondo, a 70 anni da Ilari a Tenzing, la scalata all'Everest. Resta un mito. Virus nell'acqua, Romagna in coda e mancano i vaccini. Contro il rischio tetano, epatite e difterite. Il sindaco di Conselice evacuate il paese. Adesso sono l'acqua putrida, il fango duro come la pietra e il polverone che si alza ogni movimento di uomini e mezzi a far paura agli alluvionati dell'Emilia-Romagna. Ieri centinaia di cittadini di Conselice, nel Ravennate, si sono messi in fila dalle 8 del mattino per la vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse. E poi la pace. Secondo Xi, la Russia si tenga i territori occupati. La pace, leggiamo, la Russia si tenga i territori già annessi e lo scenario illustrato dal suo inviato Liui, Amoska, le regioni occupate, Crimea e parte di Kherson, Zaporizia, Donetsk e Luansk. E poi, nel taglio basso, la cronaca di vieto di Bermuda e magliette corte, la scuola si spacca. È il caso a Roma, l'estate alle porte e le scuole invitano a un dress code adeguato in un istituto, pantaloncini vietati. Chiudiamo con la prima pagina del mattino. Migranti, la svolta dell'Unione Europea, il piano quote allo studio dei 27, ripartizione in base alla capacità di accoglienza. Chi ne riceve di più otterrà un risarcimento prevista alla solidarietà obbligatoria. Anche sul mattino troviamo l'intervento dell'imprenditore Caltagirone e poi a centropagina D'Alessio Plebiscito da Scudetto. Vediamo una foto. D'Alessio, Gigi D'Alessio, riceve da De Laurentiis la maglia numero 10 del Napoli sul palco del Plebiscito. Varascheli, Araspadori, Simeone, il patron al primo concerto. Dunque i bomber della squadra che ha vinto lo Scudetto quest'anno. Ancora raid premeditato, la stesa al bar, una prova da boss, il PM assalto mafioso per sottomettere i rivali. Convalidato il fermo del 17enne, c'è un video shock. Dunque si parla dell'agguato. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi. A me non resta altro che augurarvi buona giornata e buon proseguimento con i programmi della rete.